Dai, non romperci più. No, come quelle di prima. Come va, bloc? Ci dice. Ammi tre carte. Lez, ora me li prendo io questi soldi. Ma che darle gas! Ma certo, come no? Ma non lo so. Si apre il cazzone. Ma che darle gas! Grazie, Morenna. Cosa vuoi dirci riguardo all'interno dei detti killer in quella storia? Cosa possiamo aspettarci sul prossimo passaggio? Di quale sarà la risposta del fatto da solo? Stiamo sempre più spesso in killer che si muovono localmente. E ormai abbiamo abbastanza esperienza per determinare i comportamenti più usuali. C'è cazzo!